VENERDI DELLA QUARTA SETTIMANA DI PASQUA DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli, Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, Io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me. Le persone affidate sono sempre in una inspiegabile pace. Credo che il Vangelo di oggi si spinga fino al punto di fissare i nostri occhi e rivolgerci le parole di Gesù. Fidati di me, e torna sereno. E credo che sia lo stesso tentativo che qualche geniale mente ha messo in atto quando, non molto tempo fa, ha tappezzato Roma di cartelli pubblicitari in cui era scritto, Dio esiste, ma non sei tu. Dietro quest'ironia c'è una verità di fondo, la stessa verità del Vangelo di oggi. Giocare a fare Dio ci toglie la pace, e si gioca a fare Dio quando ci si convince che bisogna salvarsi da soli, che bisogna darsi da soli una soluzione, una risposta. Si gioca a fare Dio quando si pensa che bisogna trovare autonomamente un posto giusto dove sentire significato. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. E Gesù, colui che ci prepara un posto, è lui che, anche quando sperimentiamo assente, in realtà sta facendo qualcosa per noi. Gesù ha aperto una via su ciò che, in fondo al nostro cuore, sappiamo esistere, ma che non sappiamo come raggiungere. Gli disse Tommaso, signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la via che ci conduce a ciò che davvero desideriamo e che non riusciamo a darci da soli. In questo senso, la fede cristiana parte da una constatazione di umiltà imprescindibile. Nessuno può salvarsi da solo. E Gesù è venuto esattamente perché non rimaniamo abbandonati nella nostra solitudine. Il dramma dell'uomo, il suo vero inferno, è proprio la solitudine. Accettare Cristo significa vincere questo inferno una volta per tutte. Ma l'accettazione presuppone la nostra libertà.